Ora per Belletti, e c'è il gollo di Belletti, in vantaggio il Barcellona, con il brasiliano appena entrato, una carambola favorevole su Almunia. Ha il giocatore più forte che Ronaldinho, adesso ha anche la sua seconda Coppa dei Campioni. Prova Pirlo, vina il vantaggio, 44esimo è stato Inzaghi, probabilmente a sperare il forno. Dentro per Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi! 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 Inzaghi!